Stasera una festa a tema Met Gala e devo dire che ho preso molto seriamente il tema, quindi vi faccio vedere le due opzioni a cui avevo pensato. Una è rossa e l'altra è blu. Entrambi gli abiti sono super sberlucicanti e sicuramente danno nell'occhio. Il primo è quello del mio diciottesimo, è rosso, ha sirena e devo dire che calza molto bene. All'inizio è tutto paillettato e poi va a scemare, mentre il secondo è blu, l'ho messo più recentemente. Ha uno spacco gigante sulla destra. Quale scelgo? Ovviamente io vi aspetto su IG. Grazie a tutti.